a 14 anni sapevo già di voler farlo scultore mio padre era scultore e i miei fratelli erano scultori e così sono cresciuto in un ambiente dove tagliare il legno era di lunga tradizione a 17 anni il primo viaggio a Firenze dove sono rimasto impressionato dai dipinti di Piero della Francesca Massaccio e Ambrogio Lorenzetti e poi dalle sculture di Donatello che mi hanno lasciato un segno erano le sculture di Habakkuk e Jeremia Da ragazzo camminavo molto in montagna ma non salivo le cime entravo nei canaloni e nei dove vedevo le ombre delle montagne e da queste immagini attraverso il disegno le riportavo in una forma plastica Per me la montagna è un punto di riferimento la luce e l'ombra la costruzione di volumi cerco relazioni tra forma e colori tra linee che salgono e cadono Per me la scultura nasce dalla linea la linea che sale e cade è questo spigolo che dà luce e ombra e così nasce la mia forma la mia scultura è la pietra il sasso la roccia la struttura il colore Uso il tiglio che è un legno piuttosto resistente mi lascia il tempo di pensare alla forma alla forma piena al vuoto lo ombra, di avvicinarmi all'idea che sento. La forza della superficie uvida, riflettente e materica. Modificare la lettura della forma, cerco una struttura diversa e personale. Nella mia scultura cerco un'alternativa alla realtà, cioè di interpretarla in un modo diverso sia nella struttura che nella linea. Cerco un'alternativa alla realtà, una immagine nuova, diversa. C'è la forma plastica, c'è il basso rilievo e il segno grafico. La scultura diventa pittura e la pittura diventa scultura. Spiegoli di roccia la mia forma. Sono Wilhelm Senona e ho trovato le mie forme nella roccia. Grazie. Grazie. Grazie.